Di lato del discorso qualificazione, che valore è attribuito a questa partita? Buongiorno, è una gara vera, una gara ufficiale, quindi per noi ha grande rilevanza perché ci confrontiamo con una squadra di questa categoria con valori assoluti perché è una squadra che ha ambizione, è una squadra che vuole vincere e quindi credo che per noi ha una rilevanza soprattutto nell'impatto di trovare una squadra della nostra categoria e che ha sicuramente dei valori che noi dobbiamo cercare di limitare il più possibile. In questo momento abbiamo fatto 43 giorni di lavoro, quindi abbiamo lavorato su tanti aspetti, credo che non abbiamo avuto grandi difficoltà, non abbiamo avuto grandi problematiche a livello fisico, siamo tutti in discreta condizione, è chiaro che essendo una gara ufficiale è una gara attendibile da tutti i punti di vista, sia fisici che tecnici, quindi mi aspetto di vedere tutto quello che ho intravisto in questi 43 giorni, di vedere dei miglioramenti, di vedere l'atteggiamento e la mentalità di squadra, quello che stiamo cercando e ci stiamo lavorando in questi giorni. Sì, è il secondo campionato di Serie D che fanno, ma hanno l'ambizione di voler vincere, lo denotano le finestre di mercato, queste tre finestre di mercato hanno rivoluzionato la squadra, hanno preso i giocatori che hanno vinto campionato di Serie D, hanno preso i giocatori di Serie C e quindi chiaramente è un test attendibile, ha un impatto subito forte per capire a che punto siamo. in questo mercato è soddisfatto? Manca qualcosa? Siete troppi? numericamente siamo sì, siamo qualcuno in più, qualche ragazzo probabilmente, soprattutto quelli aggregati dalle migliori troveranno poco spazio e per quanto riguarda il mercato sì sono soddisfatto perché è una squadra in questo momento secondo me competitiva, abbiamo tante caratteristiche, tante qualità e quindi credo che dovremo costruire soprattutto come dicevo il primo atteggiamento, è una mentalità che ci porta ad essere competitivi in questo campionato. Sì l'ultima domanda, per il Fulì ha una sorta di Taburi con il turno di Coppa Italia, ecco mi sarei consapevoli, c'era la voglia di superare il turno? Io non so statistiche, non sono risultati negli anni passati ma questa partita, questa gara ufficiale è altamente probante nel senso che per noi è di rilevanza importante perché capiamo subito contro chi ci confrontiamo, testiamo subito il fatto di essere subito dentro una gara che conta, quindi per me le gare contano, le partite contano, questa è una partita che conta, poi Coppa Italia, campionato, per me contano tutte le partite quindi anche questo di domani sera conta, conta nell'atteggiamento, conta nella mentalità, conta nel risultato quindi credo che tutte le partite le bisogna dare la stessa rilevanza per creare una mentalità, per creare un gruppo, per creare una condivisione di obiettivi quindi credo che tutte le partite siano importanti e abbiano rilevanza. Grazie Mister. Grazie a tutti.